Allora, siamo qui con Christian Cavicchioli che ci presenta il suo neonato, anzi la sua neonata, la Z4, una macchina nuova di cui adesso lui ci parlerà. Qua c'è anche il suo progettista che si è nascosto, ma tra poco lo chiamiamo. Amici modellisti, ben ritrovati, sono Cavicchioli e Christian e oggi sono qua nella location di Cassino per presentarvi la nuova Z4. La nuova Z4 come particolarità principale abbiamo le spalline anteriori e posteriori in materiale composito, questo ci differenzia un po' da tutti gli altri marchi. Il progettista Federico Zugno ha pensato di utilizzare questo materiale perché noi crediamo molto che possa dare numerosi vantaggi. Altre caratteristiche innovative della macchina sicuramente è la barra posteriore regolabile che era da un bel po' di anni che non si vedeva. Poi abbiamo dei registri di regolazione della barra sia posteriore che anteriore che si possono regolare direttamente con la macchina posata sui banchini, questo rende le operazioni molto più facili e veloci e molto più precise. Poi abbiamo un modulo della trasmissione con un dente un po' particolare che dà grandissima scorrevolezza alla macchina, come potete vedere scorre veramente tanto e questo chiaramente potete immaginare i vantaggi che può avere in pista in termini di consumi, velocità e scorrevolezza in curva. Abbiamo un telaio in Ergal 70-75 da 5 mm di spessore, poi abbiamo tantissime possibilità di regolazione delle geometrie sia anteriori che posteriori, abbiamo 9 possibilità per quanto riguarda il braccetto posteriore, il braccetto anteriore inferiore e 9 per il braccetto superiore. Vincenzo, fai altre due stampe dell'1.10? Abbiamo un tirante regolabile superiore con diverse posizioni per adattarci meglio alle condizioni di pista e qua ce n'è stato veramente bisogno perché qui le condizioni sono molto diverse da quello che siamo abituati ma siamo riusciti a trovare un ottimo setup e un ottimo equilibrio e nonostante non conosciamo la pista però insomma ci stiamo difendendo abbastanza bene e cos'altro abbiamo la possibilità... Vedo l'ammortizzatore sul barilotto addirittura posteriore? L'ammortizzatore posteriore ha un extension in carbonio con due possibili regolazioni per l'inclinazione dell'ammortizzatore e abbiamo omocinetici posteriori in Ergal, anteriori in Ergal, dischi in carbonio, tutto questo chiaramente è la macchina di serie, la macchina di scatole esattamente quella che voi vedete. La macchina viene prodotta interamente in Italia? Interamente progettata, costruita in Italia. Teo le stampe sono pronte. In queste prime prove di oggi qual è stata la cosa che hai cercato di più per mettere a punto il tuo modello? Allora abbiamo cercato un po' più di trazione perché ieri ci mancava un po', siamo riusciti a trovarla, una buona trazione, un buon inserimento e la macchina tra ieri e oggi siamo riusciti a recuperare ben otto decimi di gap e questo ci fa molto piacere, vuol dire che insomma stiamo lavorando molto bene, la macchina risponde molto bene ai regolazioni e insomma dai speriamo di divertirci e di fare una buona performance. Iniziano le qualifiche in questa manche di oggi, cosa vorresti migliorare? Allora sicuramente vorrei migliorare me stesso, vorrei migliorare me stesso perché non conoscendo la pista devo ricordarmela volta per volta e questo crea, è stata la preoccupazione principale fino ad oggi è stato quello, devo cercare solo di migliorarmi un po' e proprio io come layout del tracciato e basta la macchina va già bene. Macchina italiana, pilota italiano e anche motore italiano, facciamo il tifo per te. Dai, grazie, grazie mille e buon divertimento a tutti, è stato un piacere. Ciao, a dalle prossime giorni. Marshall, please.